Gentili telespettatori, buona giornata. Meloni dice ridurre il gap nord-sud per un'Italia più forte, intanto l'inflazione scende all'1,7%. Il capo del governo annuncia paghiamo ancora le conseguenze dell'uno vale uno. Il cammino che il governo ha davanti è ancora lungo, sono tanti problemi concreti che saremmo chiamati ad affrontare, ma siamo certi che potremmo sempre contare su di voi, perché nessuno più di voi sa quanto sia importante il gioco di squadra per centrare l'obiettivo che ci si pone. La squadra è questa, governo, istituzioni, imprenditori, dirigenti, lavoratori, l'obiettivo è complesso ma entusiasmante far riscoprire all'Italia l'orologio, o meglio più che l'orologio, l'orgoglio, di ciò che è una grande nazione all'altezza della sua storia e capace ancora di stupire il mondo. E poi aggiunge che la strada per costruire l'Italia più forte passa anche da un'altra priorità, ridurre il divario economico, sociale e infrastrutturale tra nord e sud. Beh, se l'Italia fosse tutta uguale per produzione di ricchezze di PIL avremmo un PIL come quello della Germania o più alto, però le differenze regionali ci sono, se voi siete a Milano dove vi girate e vi girate trovate una fabbrica, se siete giù a Caltanissetta dove girate e vi girate trovate niente. Ecco, insomma, non si può pretendere che tutta l'Italia diventi come l'Interland milanese, se no faremmo un PIL grande come tutto quello dell'Europa. Ecco. E la ragione, dice la Meloni, che ci ha spinto a stanziare con questa legge di biliarncio un miliardo e 800 milioni di euro per il credito d'imposta alle imprese che investono nella nuova ZES unica, la nuova zona che è stata creata di sviluppo al sud. Una grande opportunità per tutto il sistema imprenditoriale italiano perché più cresce il sud più cresce e diventa competitiva l'Italia. Competenza e merito parla dei valori aggiunti per la nostra nazione e dice che sembra un'ovvietà ribadirlo ma non è sempre stato così fino ad ora. Per anni ci è stato detto al contrario che uno valeva uno, che la competenza non serviva nulla. Messaggi devastanti di cui purtroppo ancora oggi paghiamo le conseguenze. Una chiara stoccata al grillismo e i 5 stelle. E aggiunge, crediamo sia necessario, garantire il più possibile pari condizioni con le imprese straniere, con i sistemi produttivi delle altre nazioni europee non. Questo vuol dire ad esempio stesse regole e tutele relative al mondo del lavoro. Sistemi fiscali allineati, medesime regole produttive, con riferimento ad esempio all'ambiente perché il dumping salariale, fiscale e ambientale erige un muro che si chiama concorrenza sleale. Un muro che limita la competitività di coloro che la subiscono. E intanto, come vi dicevo, l'inflazione a ottobre è all'1,7%, minimo da luglio del 2021. Certo i prezzi rimangono alti, scordatevi che i prezzi scendano. Ormai quello che è salito rimane lì. Anche se il prezzo di quel bene si dimezza, continueranno le aziende a venderlo allo stesso importo che lo vendono oggi per continuare a guadagnarsi e guadagnarci di più. Funziona così. Quando c'è da salire i prezzi salgono immediatamente, quando c'è da scendere non scendono più. Questo ormai lo sappiamo. Però sembrerebbe finita la corsa al rialzo così eccessivo dei prezzi. L'inflazione adesso è all'1,7% e speriamo si mantenga. Si mantenga così, però il rialzo del gas per i mesi invernali e della luce potrebbe far sì che quest'1,7% sia solo magari una parentesi. E pertanto dall'1,9 di luglio siamo all'1,7 di ottobre. Lo rivela l'Istat che parla di una diminuzione dello 0,2% su base mensile è un aumento di 1,7% su base annua. Dal più 5,3% di settembre siamo scesi all'1,7. Quindi l'inflazione di fondo al netto degli energetici ed alimentari freschi rallenta da 4,6% a 4,2. Così come quella al netto dei soli beni energetici da più 4,8 registrato a settembre a più 4,2. Lo rileva l'Istat nelle stime definitive. L'inflazione acquisita per il 2023 è pari al 5,7% per l'indice generale a 5,1% per la componente di fondo. Frena il carrello della spesa. Si passa da un 8,1% di settembre a più 6,1% dato rivisto al ribasso. Prima si pensava a un 6,3%. E quelli dei prodotti di alta frequenza d'acquisto da più 6,6% si scende a 5,6% con il segno più. Quindi c'è un forte rallentamento dei prezzi degli energetici da più 7,6% a meno 17,7% e quelli regolamentati da meno 27,9% a meno 31,7% e quelli degli alimentari non lavorati da più 7,7% a più 4,9%. Bene, comunque i servizi dell'abitazione scendono scende la salita cioè diminuisce la salita di altri beni non è che in realtà scendono e pertanto comunque sono valori positivi rimane un qualcosa da sistemare che sono gli stipendi di 4 milioni di italiani che vivono lavorando ma in povertà per questo che su questo che si spera che venga introdotto questo famoso salario minimo che la Meloni chiama in un altro modo è solo per chi non ha un contratto nazionale la equa remunerazione va bene non chiamiamolo salario minimo perché ormai la parola salario minimo viene associata a sinistra grillismo movimenti pdismo va bene cambiamogli il nome basta che lo facciamo lo vogliamo anche modificare basta che lo facciamo modifichiamo anche l'importo basta che lo facciamo ecco basta che lo facciamo prima possibile arrivederci a tutti e grazie ci vediamo domani